Diamo il benvenuto da Andrea Sanguinetto, responsabile dell'area commerciale e vice direttore generale per Pramerica, al quale chiediamo in relazione a quello che è il contesto di mercato, anche all'inizio anno, anche in chiave prospettica, come si colloca la vostra proposta commerciale? Certamente il mercato ha mostrato un ritorno della volatilità nel 2018 e ci aspettiamo che la volatilità rimarrà anche nel corso del 2019. In questo contesto di mercato stiamo enfatizzando quella che è la nostra offerta di soluzioni absolute return flessibili, quindi meno legate al benchmark ma mirate ad ottenere un rendimento assoluto. Creiamo anche una maggiore offerta di strategie che partono da competenze con un lungo track record che abbiamo maturato nelle nostre strutture di gestione negli Stati Uniti e da ultimo certamente l'offerta di investimenti di tipo sostenibile è qualcosa su cui siamo già presenti, avendo attualmente più di un miliardo di asset in questa tipologia di investimenti e che è sicuramente qualcosa che vedrà un ulteriore crescita, un ulteriore sviluppo nel corso dei prossimi mesi. Relativamente a questo ultimo elemento, il prodotto che abbiamo lanciato nel corso dello scorso anno, Social for Planet, ha raggiunto 400 milioni ormai di asset ed è un fondo sostenibile con un approccio di tipo tematico focalizzato sull'investimento in economia circolare. Economia circolare che quindi si differenzia rispetto alla classica economia lineare fatta di produzione, consumo e scorte e rifiuti. Economia circolare è un'economia che mira a allungare il ciclo di vita del prodotto attraverso il riciclo, attraverso la condivisione, la sharing economy con un maggiore impatto anche dal punto di vista delle nuove tecnologie. Qualcosa che oltre ad essere legato al tema della sostenibilità è anche un business che oggi conta più di 3 mila miliardi di dollari a livello globale.